Buonanotte, domenica i programmi cominceranno alle 6.45 con Mattina in Famiglia e proseguiranno alle 11.30 con Mezzogiorno in Famiglia. Al termine l'edizione del TG2 giorno delle ore 13, seguita da Dribbling Mondiali e poi dal TV Movie Il Marito della Sua Migliore Amica. Dopo le notizie del TG2 delle 20.30 vi segnalo il film thriller consigliato ad un pubblico adulto Delitto Perfetto con Michael Douglas e Wynel Paltrow. A New York un ricco agente di borsa sull'orro della bancarotta costringe l'amante della sua ricca moglie ad ucciderla per ereditare la fortuna. Alle 23.05 un altro film in prima visionerai, Possession, una storia romantica. Arrivederci e buonanotte a tutti.